Ha lasciato l'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed è stato affidato ad una nuova famiglia per l'adozione il neonato che era stato abbandonato in un cassonetto dei rifiuti il 4 novembre scorso in via Saragat a Ragusa. L'affidamento è stato deciso dal Tribunale dei Minori di Catania. 900 giocattoli privi del marchio CE sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Palermo. Erano in vendita in un negozio del centro città gestito da imprenditori cinesi. I giocattoli non riportavano il marchio della comunità europea, altri indicazioni obbligatorie. I responsabili del negozio rischiano adesso sanzioni amministrative che prevedono un minimo di 10.500 euro, un massimo di 31.000 euro. Guardia di Finanza in attività anche a Catania dove sono stati sequestrati 2.400 prodotti contraffatti e ritenuti non sicuri in un negozio di bel passo, anche questo gestito da un cittadino cinese. Un 38enne palermitano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 800 grammi di marijuana e 5 piante con tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione. La donna che convive con l'uomo arrestato, una 31enne, è stata denunciata per lo stesso reato.